La scuola per me è un luogo sicuro, è un luogo di formazione, dove accrescere le nostre mille possibilità. È quel luogo legato a quei ricordi meravigliosi che ahimè non torneranno più. La scuola è il fondamento, la base su cui costruire un mondo nuovo. La scuola è lo strumento più democratico che esista in qualsiasi paese. È un luogo fondamentale per tutti i nostri ragazzi, un'ancora dove aggrapparsi. La scuola per me è casa e anche famiglia, perché i nostri figli a scuola devono sentirsi sicuri e protetti come a casa e in famiglia. La scuola per me è decisamente la recita di fine anno, rimarrà sempre nel mio cuore anche perché è lì che ho capito che volevo fare questo mestiere. È il nostro passaporto per il futuro, perché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano alla prima. Viva la scuola e viva la cultura. Ciao!